Un caro saluto al pubblico di Telefriuli, ben trovate e ben trovati all'appuntamento domenicale con lo sguardo dell'anima. In un paese davvero poco incline a occuparsi di esteri, di quel che accade nel mondo, la pandemia acquisce questa tendenza e rischia di farci diventare un paese ancora più ripiegato su se stesso e sui propri problemi. Eppure oggi più che mai in un mondo globalizzato, fortemente interconnesso, dovremmo aver imparato che qualsiasi cosa accada nel mondo ha dalle ripercussioni anche nelle nostre vite. Dunque nessun luogo può dirsi davvero lontano. Ad unirci dunque dovrebbe esserci un sentimento di umana vicinanza, di fratellanza e dunque di empatia. Sentimenti questi che sono profondamente radicati nell'animo di coloro che scelgono di impegnarsi in comunità, in comunità lontane, spesso in paesi segnati anche da conflitti e da guerre. Questo per la promozione dell'uomo, della sua dignità, dei diritti e naturalmente anche per l'evangelizzazione di quelle comunità. Stiamo parlando naturalmente di missionari e missionarie che anche dal Friuli raggiungono ogni angolo del mondo. Affrontiamo questo tema proprio nella puntata di oggi perché mercoledì 24 marzo ricorre la giornata mondiale dei missionari martiri. Una giornata davvero molto importante per la Chiesa universale. Dunque abbiamo deciso di dedicare questa puntata per dare uno sguardo anche su quelli che sono i missionari della nostra regione. E dunque insieme a me come ogni domenica non può che esserci Don Daniele Antonello. Don Daniele buongiorno. Eccomi qua buongiorno e buona domenica a tutti. È bello ritrovarci con il sole splendente cara Anna qui. Qualche nuvola all'orizzonte ma insomma. Sì va bene ma insomma non guardarti troppo a lì su. Ma invece la domanda di rito di ogni domenica lo sai dove ti ha portato? Io aspetto che me lo racconti tu naturalmente. No come sempre abbiamo diciamo qualcuno che è un po' protagonista anche di questo territorio e allora ecco chiamo con me padre Andrea Gamba che è il parroco di una collaborazione pastorale che si trova a sud sud est meglio di Udine. Ciao padre Andrea. Ciao Don Daniele. Siamo a Prada Mano una delle quattro parrocchie della collaborazione pastorale di Butrio insieme a Butrio appunto Camino e Lovaria. Qui a Prada Mano siamo qui per condividere un po' quello che è questo orizzonte di amore universale. Abbiamo come sfondo la chiesa dedicata a Santa Cecilia e a fianco alla chiesa l'oratorio dove svolgiamo le attività soprattutto estive con i ragazzi. Padre Andrea che è uno dei padri missionari saveriani che compongono la comunità e che gestiscono appunto queste quattro parrocchie e la collaborazione pastorale di Prada Mano. Grazie padre Andrea avremo tempo e modo per poter parlare oltre che con te anche con il vicario parrocchiale ma non solo insomma ci saranno delle sorprese anche in questa domenica. Ecco come sempre facciamo però vogliamo approfondire anche la tematica riguardante proprio il tema di quest'oggi la missione e allora sentiamo il nostro Giovanni Lesa. Il 24 marzo 2021 si celebra la ventinovesima giornata dei missionari martiri dal titolo Vite Intrecciate. Nella stessa data 41 anni fa Monsignor Oscar Romero, arcivescovo di San Salvador, veniva assassinato durante la celebrazione della messa, ucciso per le sue denunce contro le violenze della dittatura militare nel paese. Come il Santo de America ogni anno migliaia di donne e uomini di ogni continente rimangono fedeli al messaggio evangelico di pace e giustizia, con scid che le conseguenze possono anche portare a rapimenti o uccisioni. Si pensi a Don Andrea Santoro ucciso nel 2006 in Turchia o ai rapimenti di padre Paolo Dall'Oglio dal 2013 nelle mani di rapitori in Siria e di padre Pierluigi McCalli, recentemente liberato dopo due anni di prigionia in Niger, per arrivare all'assassinio di Don Roberto Malgesini, il 15 settembre dell'anno scorso a Como. Nel recente passato hanno dato la vita anche due missionari friulani, uccisi in Africa insieme ai loro compagni di missione a causa dell'impegno per la riconciliazione e la pace, padre Aldo Marchiol nel 1995 in Burundi e padre Evaristo Migotti nel 1964 in Zaire. Negli ultimi vent'anni, secondo agenzia Fides, in tutto il mondo sono stati uccisi 535 missionari e operatori pastorali, tra cui 5 vescovi. Durante il 2020 hanno perso la vita 20 missionari, tra sacerdoti, suore, religiosi, seminaristi e laici, alcuni dei quali martirizzati in odio alla fede, altri in contesti di violenza o di guerra. Guardando alla nostra terra, sono moltissimi missionari di origine friulana presenti nel mondo, per lo più inseriti in ordini religiosi. 18 in Africa, 35 nelle Americhe, 18 in Asia e 1 in Oceania. In tutto 72 religiosi, ai quali si aggiungono i 65 in servizio in varie parti d'Europa o rientrati nelle case madri dopo una vita dedicata al Vangelo. Nelle parrocchie della sola Arcidiocesi di Udine sono attivi circa 70 gruppi missionari, impegnati in particolare nella solidarietà da destinare alle missioni e nella cura del contatto diretto con i missionari. I conflitti sotto i riflettori in queste ultime settimane ci mostrano ancora di più che l'opera missionaria consiste nell'intrecciare la propria vita con quella delle realtà nelle quali ciascuno ha chiamato a testimoniare il Vangelo. Pensiamo alla Siria, al Myanmar, al Congo, alla Repubblica Centrafricana, all'America Latina. I missionari restano insieme alla gente, ai poveri, ai perseguitati, agli esclusi, assumendosi con coraggio i rischi della situazione. Adesso ci facciamo raccontare da padre Andrea Gamba e da padre Enzo Tonini che sarà qui con noi tra poco qual è stata la loro esperienza di missione. Ecco, padre Andrea, dove ha vissuto, per quanti anni, com'è stato? Sì, io sono stato in Amazzonia per 11 anni, più precisamente nello stato del Parà, proprio sull'equatore, dalla parte dell'Oceano Atlantico. Ho vissuto per 11 anni portando avanti attività sia parocchiali sia di animazione missionaria, legata soprattutto all'infanzia missionaria, visto che è un movimento molto attivo. Ho potuto conoscere un po' tutte le varie sfide a livello di giustizia sociale, tutte le sfide legate appunto al medio ambiente, alla deforestazione e tutto quello che anche riguarda un po' la realtà degli indios in America Latina. L'esperienza è stata chiaramente segnata da una notevole ricchezza di incontro con questo popolo di molta fede e di tanto coraggio. Grazie davvero Padre Andrè. Abbiamo visto dunque la parola più importante, la parola incontro. Ecco, Padre Enzo Tonini, vicario parrocchiale, anche lei è stato in missione. Se ci racconta dove, per quanto tempo? Ecco, io ho cominciato il mio periodo, diciamo così, della missione in Spagna. Sono stato sette anni a Pamplona, sapete quella città dove ci sono i tori che corrono per le strade, però una volta solo la settimana. E poi sono stato anche una decina d'anni in Colombia. Precisamente tre anni a Buonaventura, che era una città, un porto, una città molto marginale della popolazione afroamericana, la grande maggioranza. E poi ho dovuto trasferirmi a Bogotà, che è la capitale con 10 milioni di abitanti, una cosa incredibile, dove c'è una realtà anche lì di quartieri marginati dove noi vogliamo lavorare, dove noi vogliamo dare il nostro contributo per promuovere i valori che il Regno di Dio vuole cominciare a far nascere in questo mondo. Ecco, dunque la Colombia, prima abbiamo sentito parlare di Amazzonia, Bogotà, è questo l'immaginario che noi abbiamo quando parliamo di missionari. Voi invece siete in questo momento, dopo questa esperienza, missionari qui in Friuli. Ecco, perché e che cosa vuol dire? Ecco, noi abbiamo un fondatore che si chiama San Guido Maria Conforti e che era vescovo di Parma e quindi molto occupato, diciamo così, della sua diocesi, della sua realtà. Eppure aveva uno sguardo verso la missione, uno sguardo così forte da fondare appunto il nostro istituto. Per cui noi vorremmo quasi dire che è possibile mettere insieme la pastorale, la cura di un popolo e allo stesso tempo uno sguardo alla missione. Allo stesso tempo avere gli occhi aperti al mondo e non solamente alle problematiche del campanile, come abbiamo visto all'inizio della trasmissione. Ecco, proprio nella scheda Giovanni Lesa ci ricordava che quest'anno la giornata dei missionari martiri ha per titolo vite intrecciate e come è sempre una giornata che trae spunto dalla vita del vescovo Romero ucciso nel 1980. Ecco, che significato ha celebrare oggi questa giornata? Ecco, le vite intrecciate vuol dire vite che sono donate perché nel momento in cui intrecci la vita con un altro significa che dai te stesso e anche il martire da se stesso. In questa giornata ricordiamo Oscar Romero, un vescovo del Salvador che è stato ucciso perché difendeva il suo popolo e perché ha intrecciato la sua vita con il suo popolo fino al punto appunto di donarla che è stato ucciso proprio mentre celebrava la messa, ha mischiato il suo sangue con il sangue di Cristo. Per cui in questa giornata missionaria siamo tutti noi chiamati a intrecciare, a donare la nostra vita per intrecciare la vita degli altri e per fare del mondo una sola famiglia. Grazie davvero di cuore padre Tonini per questa bella testimonianza e ora a proposito di vite che si intrecciano andiamo un po' lontano e andiamo a vedere qual è l'operato in Centrafrica e in Thailandia, questa volta insieme alle suore. Nostra piccola comunità di cinque sorelle, attualmente adesso siamo in quattro perché una è a Mianmar e a causa della pandemia e altri problemi non è riuscita ancora a rientrare. Nostra piccola comunità è arrivata in Thailand nel 2011, specialmente per lavorare nei villaggi con diversi etnii e diversi tribù e attualmente siamo a Chiang Sen, nostra comunità, al Triangulo d'Oro. Come potete vedere siamo qua proprio al confine con Kiamar e Laos. Nostra missione si intreccia nella diversità di un contesto culturale dove prevale la religione buddista e animista tra i tribali. Oggi il nostro centro Fondazione Providenza accoglie 45 ragazzi e bambini figli di profughi dal Mianmar di diverse etnie. Il centro offre un programma integrato per la loro vita per chi possano crescere sereni. Noi, suore delle due comunità di Nieme e Maigaro della Repubblica Centroafricana apparteniamo alla congregazione delle suore francescane missionari del Sacro Cuore. L'invio alle missioni estere è parte costitutiva del nostro carisma. Io sono regola camerunese, faccio parte della comunità di Nieme, aperta nel 1989 e che si trova a 60 km della città di Bois. Vivere con i poveri per loro giorno dopo giorno significa condividere, cogliere lezioni di vita che giuriscono dalla semplicità, dal modo con cui vivono, significa soprattutto restare con amore sempre. Significa non abbandonarli, soprattutto in tempo di guerra come questo, in cui ci troviamo, ci contatti con i liberi armati, senza alcuna protezione, se non l'arma della fede e della fiducia in Dio e della sua divina providenza. Tutti gli impiegati delle ONG sono partiti verso luoghi più sicuri, ma il missionario resta tra la gente. Noi restiamo con loro per aiutare, per consolare, per sperare. Come francescane ci sforziamo di vivere un'accoglienza fraterna verso i malati, i bambini, i giovani che si affidano a noi, verso i bisognosi che bussano quotidianamente alla nostra porta. Ci sforziamo di vivere l'evangelizzazione attraverso la carità che accoglie e non giudica. Eccoci di nuovo in trasmissione, siamo allo sguardo dell'anima e oggi sì, il tema al centro della puntata di oggi è quello di missionari e missionarie. Don Daniele, adesso una testimonianza molto particolare di missione. Decisamente, peraltro anche molto bella perché ho avuto già modo di intravedere le risposte di questo giovane, Marco Trink, che è originario della parrocchia di Coloredo di Montalbano, però ha partecipato a diverse iniziative missionarie, in particolare tre, ha girato un po' il mondo e allora vogliamo ascoltarlo anche perché poi è stato il fruitore, uno dei fruitori della solidarietà per azioni organizzata dalla Caritas e dal centro missionario diocesano. Nel giro di pochi anni hai vissuto ben tre esperienze di conoscenza delle missioni, peraltro in contesti molto diversi, in Bolivia, in Congo, in Bangladesh. Che cosa ti ha spinto così giovane a partire e ripartire per esperienze di missione? Ciao a tutti, intanto grazie per questa bella occasione che mi avete dato di testimonianza. A questa tua domanda mi piace sempre ripensare a come è nato il mio primo viaggio in Bolivia. Sembrerà assurdo ma è nato quasi per caso, nel senso che ho risposto e chiesto alcune info ad un post di Don Daniele su Facebook. Da lì la settimana dopo gli ho dato l'ok e sono partito per questa avventura. Successivamente chiaramente si è aggiunta la curiosità, curiosità di conoscere e visitare posti nuovi, di incontrare nuove persone, di altre nazioni ed etnie e curiosità soprattutto di mettere in gioco me stesso e di relazionarmi con l'altro per riscoprire le mie debolezze e i miei punti di forza. I due viaggi successivi invece in Congo e in Bangladesh sono ripartito perché posso dire che mi sono innamorato di tutto ciò e quindi è stato proprio l'amore a spingermi a ripartire. Amore soprattutto per i bambini e per tutte le emozioni e i sorrisi che sono in grado di darti ogni volta che li incontri e che vivi un'esperienza assieme a loro. La vita dei missionari è pane spezzato con la gente. Che sapore dell'annuncio del Vangelo hai incontrato a contatto con i missionari? Dunque nelle varie missioni a cui ho partecipato e come molto spesso accade in quanto volontario accompagni, se così possiamo dire, i missionari nelle loro varie attività quotidiane, quindi per esempio la distribuzione dei pasti, il doposcuola ai bambini, le messe, la confessione, la comunione agli anziani e tutto quello che svolgono appunto nelle loro missioni. In tutte queste attività sicuramente riscopri che la gente ha una fede molto forte e radicata, un credo veramente profondo e la presenza dei missionari credo, io ritengo, che sia molto importante per tutte quelle persone, non solo dal punto di vista economico, per tutte diciamo le risorse che riescono a fornire loro, ma anche appunto soprattutto per la loro presenza in mezzo alla gente, segno secondo me di testimonianza vera della presenza del Vangelo. Quando mi hai fatto questa domanda mi è subito venuta in mente un'immagine molto molto bella a cui associerei questo sapore di cui mi hai parlato, ovvero la prima messa domenicale a cui ho assistito in Congo, a cui erano presenti oltre 3.000 persone e mi vengono i brividi solo a pensarci. Quando sei rientrato hai sentito la necessità di testimoniare quanto vissuto. Con i giovani del gruppo missionario di Codroipo avete condiviso incontri nelle parrocchie e nelle scuole. Perché? Prima di partire per la Bolivia noi ragazzi avevamo fatto una raccolta a fondi presso le diverse parrocchie dei partecipanti e quindi avevamo promesso che al nostro ritorno avremmo fatto vedere loro le foto e avremmo raccontato le nostre esperienze vissute in missione. E così infatti è stato. Dopo il Congo però ho voluto andare anche nelle scuole per far vedere ai bambini e ai ragazzi quanto valore possa avere per esempio un pallone fatto di stoffa e di spago e quindi di quanto sia importante non tanto il gioco in sé quindi avere la playstation di ultima generazione ma lo stare assieme e divertirsi assieme alle altre persone. Ho anche imparato che molti popoli vivono una situazione di oppressione di trattoriale e questo fa sì che la nostra voce sia per loro l'unica arma a disposizione per cercare di raccontare al mondo e denunciare soprattutto queste loro situazioni di povertà e di miseria assoluta e quindi di far vedere come vivono realmente queste persone. Concludo ringraziando nuovamente per questa bellissima esperienza e opportunità che mi è stata data e mi auguro che ciascuno di voi possa vivere la propria missione magari non per forza migliaia e migliaia di chilometri da casa ma nella propria vita e nelle attività di ogni giorno. Ciao a tutti. Grazie Marco per questa tua testimonianza davvero molto molto bella ed intensa e altrettanto intensa è la vita di padre Claudio Bortolossi che credo tantissimi i nostri telespettatori conoscono perché fino a vent'anni fa era una voce molto interessante e tonante direi anche della nostra diocesi e non solo. Ecco una domanda a padre Claudio che è rientrato in Italia praticamente un mese fa dalla Colombia. Noi di solito pensiamo ai missionari come qualcuno come ha fatto lei in questi anni insomma che esce dal contesto europeo ed occidentale ma che cosa significa essere missionari qui oggi in particolare per un cristiano battezzato? Allora la prima cosa che mi hanno detto rientrando in Italia ma diverse persone guarda che l'Italia non è più quella di 23 anni fa quindi bisogna davvero leggere la situazione ma io credo che essere missionario in Italia vuol dire prima di tutto la testimonianza. Secondo il coraggio di proporre quelle che sono le scelte cristiane. Se non si può stare con tutti non si può dar ragione a tutti bisogna avere il coraggio di annunciare Gesù Cristo con le sue esigenze che sono di amore di fraternità però sono esigenze. Padre Claudio grazie è stata un po' un'intrusione perché non ci aspettavamo la sua presenza qui a Prada Mano ma è bello poter condividere con lei anche questo piccolo momento ed ora insieme con Anna abbiamo anche delle informazioni importanti che hanno a che fare con la nostra diocesi vero Anna? Sì davvero perché appunto c'è questa grande attenzione per le missioni allora veramente in velocità quaresima di fraternità come ogni anno c'è una raccolta di fondi che quest'anno saranno devoluti alla diocesi di San Martín che è proprio alle porte di Buenos Aires nei quartieri più poveri le offerte che saranno raccolte oggi durante le sante messe andranno proprio a quella missione. Ci sono delle parrocchie che hanno anche il salvadanaio di Quaresima e quindi per tutto il tempo fino a Pasqua. Esattamente poi sul sito della Caritas Diocesana della diocesi di Udine trovate tutte le indicazioni per sostenere questa realtà e poi dicevamo mercoledì 24 la giornata dei missionari martiri ci sarà un momento di preghiera purtroppo online alle 20 e 30 sul canale facebook del centro missionario di Diocesano. Don Daniele giunti anche oggi alla fine di questa puntata. Una puntata davvero interessante noi vi vogliamo salutare vi diamo appuntamento a domenica prossima sarà la Domenica delle Palme. Buona domenica. Domenica delle Palme. Buona domenica. Domenica delle Palme. Buona domenica. Buona domenica.